Ciao ragazzi, salve su iscriviti e oggi siamo qui in un nuovo video Oggi siamo qui in questo nuovo video per parlare di nuova scena Ok, è un po' ritardo come vi dico, ma lo farò Voglio parlarvi intanto di come era strutturata la nuova scena E poi di alcuni concorrenti di questa nuova scena Vi parlerò di quelli che hanno superato, ovviamente, i primi casting Allora, nuova scena è un programma Netflix sul rap italiano C'erano tre giudici, Jolier, Fabio Fibra e Rosville Questi tre giudici dovevano andare in tre città diverse Le loro città di appartenenza, a parte Fabio Fibra che non è di Roma Però Fabio Fibra è Roma, Rosville è Milano e Jolier è Napoli Le loro dovevano trovare nelle loro città dei cantanti E mi sembra che sono durati tre puntate Queste audizioni chiamiamolo in città tre puntate Dove avevano dei aiutanti a puntata Mi sembra che avevano degli aiutanti a puntata Fabio Fibra aveva come aiutante DJ Squarta Ketama 126 e Night Mentre Rosville aveva Ernia, Wee, Lazza E Jolier aveva Lele Blade Scusate Lele Blade, Young Snap e Rock Hunt Sì questa cosa si faceva così Andavano Facevano andare dei cantanti In cui si cantavano Fibra e diciamo Squarta in questo caso Le facevano andare fuori Parlottavano e poi facevano entrare E potevano passare uno Se erano uno Cioè potevano passare uno come ne potevano passare zero Come potevano passare tutti Per dire nel caso di Fabio Fibra Erano tre Potevano passarne uno Potevano passarne due Potevano passare tutti tre O potevano passarne zette Detto questo Vi riassumo brevemente Sono state fatte le scelte Vi dirò dopo I partecipanti Perché ve ne voglio parlare E che è andata così Per le prime puntate è stata così Poi Sono Quelli che Andavano avanti Andavano a Milano Andati a Milano Dovevano fare un'altra Un'altra audizione Davanti a tutti i giudici Se due giudici Su tre Dicevano sì Loro andavano avanti Però alcuni Sono arrivati in quel momento Cioè hanno fatto le audizioni Direttamente a Milano E invece alcuni Non sono piaciuti Cioè sono piaciuti Però volevano di più E li hanno mandati al Cypher Il Cypher cos'è? Avete presente il Red Bull Posse? Più o meno Non è quello Tipo il Red Bull Posse E facevano delle barre a testa Era una canzone proprio Quella che Hanno fatto loro E ci sono dati il cambio Poi vi dirò anche Chi Che non mi ricordo bene Ma ve li dirò Poi Chi passava Questo Cypher Andava direttamente Al Fase successiva Vi dico già che Spoiler Ne ha passato solo un Cypher Perché Fabio Fiore si è leggermente alterato Allora Passando il Cypher Andavano A Andavano avanti E sono andati Alla Battaglia freestyle Hanno fatto freestyle Uno contro uno Si sono sfidati Poi Chi passava Il freestyle Andava avanti Dopo il freestyle C'è stata la gara Le canzoni Con Videoclip Dopo le canzoni E a ogni Ma ci veniva Uno eliminato Che è eliminato Uno Canzoni videoclip Dopo le canzoni videoclip Ci sono state Gli Duetti Che I duettanti Sono stati Cioè diciamo I cantanti famosi Con cui i duetti Sono stati Gue Che ha portato Cookings and Cream Madame Che ha portato Non mi ricordo La canzone di Madame Noez Narcos Che ha portato Attica E mentre Marra Ha portato Il pagliaccio Fatto I duetti Sono andati Poi Dopo i duetti A canzoni No Dopo i duetti Alla finale La finale Consisteva In una finale a tre Dovevano portare Una canzone loro Con Una canzone loro Prodotta Da produttori Famosi Perfetto Hanno portato Tre canzoni Poi vi dirò Dopo quali sono Ovviamente Le canzoni E poi È arrivato Hanno eliminato Prima uno Hanno fatto il finale Due Senza che hanno eliminato Uno E poi hanno detto I primi due Per lasciarne due Per poi eliminarne Per far vincere Qualche Allora Questo è il format Allora Vi volevo parlare Di alcuni Personaggi In particolare Allora Io partirei A parlare Di Sir Prodige Allora Mi dico ora Quelli che hanno fatto Il cipher Se non mi sbaglio Poi posso anche Sbagliarmi Sir Prodige Giannis Suspect CB Ince E basta No Forse hanno fatto Qualcun altro Non mi sa O Fata O DuBrasil Forse Fata No Fata Mi sembra Sì La bionda Anche Flaza Anche Flaza Non mi sbaglio Ora Flaza c'era Sì sì Flaza c'era Ora non me ne ricordo Non so se Aspetta Sì li trovo Aspetta Allora Il cipher C'è stato Giannis E Flaza Non me ne dice tutti Ah sì Sir Prodige Giannis Flaza Suspect CB E Suspect CB Più Ince Allora Questi hanno fatto Il cipher Allora volevo parlarvi Di Sir Prodige Sir Prodige Se non mi sbaglio È un cantante di Milano Che se non mi sbaglio Ha partecipato al Bloody Vinyl E in più aveva fatto Una canzone Contro Sì una specie di Singal Non so se Non so se lui è Dando tutto A caso Non l'avevo mai sentito Devo dire che Alla fine Mi è piaciuto Poi mi sono sentito Una sua canzone Su youtube È molto bravo Devo dire Mi è piaciuto Lui è Molto bravo Mi è piaciuto Devevo dire Lui è di Milano Poi volevo parlarvi Anche Di Ince Ince È un cantante romano Anche Lui Era al cipher Ha passato al cipher Ed è andato avanti Però si è fermato Alla puntata dopo Con La sfida di freestyle Che poi vi vorrò raccontare Una cosa Della sfida di freestyle Dopo Lui la raccontiamo Fa canzoni Un po' così Siamo Canzoni Scherzose Canzoni Non troppo serie Parla delle solite cose Spaccio Gang 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 Quelle robe lì Triplo set Gang 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 Quelle cose lì Non mi piace Particolarmente Però Comunque Può essere buono Scusate Dicevo Ince Mi è capitato Tanto Su tip tock Con quelle canzoni Tipo Super ballo Vera cimmia Mi fa parlare Come ibra Non mi aggradano E arriveremo A un altro Che non mi aggradava Però Mi ha stupito Ora Parliamo di Do Brasil E Fata E non arrivate Al Sfida finale No Sfida finale Scusate Alla sfida Di canto Il Come ve lo dico Mi sfugge la parola Scusate Il freestyle contro Dai La sfida freestyle Allora Fattò scena muta Allora Fattò scena muta Muta Sono state Zitte È stato uno schifo In Te l'hanno avuto 3-4 ore Non sono riuscita A memoria Io Ho una memoria Del cappero Io non mi ricordo Nulla Se mi chiedi Cosa ho mangiato prima Prima me lo ricordo Ormai Se mi chiedi Cosa ho mangiato ieri Cosa ho fatto oggi Io non mi ricordo Nulla La mia memoria È un po' così Però Loro Hanno fatto schifo Hanno fatto Schifo È così ragazzi Hanno fatto Proprio schifo Hanno fatto scena muta Hanno provato Ma Nulla Infatti Le hanno eliminate Tutte e due E ne hanno preso un altro Che ve ne parlerò Pura E quello che vi volevo Appunto parlare Se lo trovo Dove È Grain Grain Cantante romano Lui È stato preso Perché Sarà scontato Con un altro cantante Che ve ne parlerò Ed era uscito Aveva fatto benissimo Questi due Hanno fatto scena muta Hanno richiamato Grain E devo dire Lui mi è piaciuto Ha fatto la canzone Poi col videoclip Poi lì è stato eliminato Purtroppo Ma la canzone Mi era piaciuta Era il videoclip Dicevano più banale C'erano le pistole Le cose E lì ragazzi Mi è piaciuta Lui mi è piaciuto Lui Sì È stata una bella sorpresa Ho sentito una canzone Però voglio recuperare un po' È stata una bella sorpresa Parlerò Io non sono un esperto Ne parlerò così Sciatto Dicendo pure Cavolate volendo Ma Ne volevo parlare E Sì Non sono un intenditore Non sono un professionista A me può piacere A voi non Può non piacere Io sono di questi pareri Li espongo su YouTube Senza nessun Sperando di non avere Nessun giudizio Vi Vi dico Non mi criticate Perché intanto Ognuno ha i suoi pareri Anzi Vi invito a scrivermi I vostri pareri Su Alcuni cantanti Se ne volete Prendere Anche altri Che vi hanno Diciamo Qualcuno che vi ha stupito Pure fuori Dal Quelli che non sono postati Tipo Vi potete parlare Del ragazzino Che comunque Lo conosco Da YouTube Oppure qualcuno Che non mi è sorpreso Che ci è andato È Kyle Rito Un altro di Roma E mi è sorpreso Perché mi piace lui Allora Detto Green Mi è piaciuto Ora andiamo Proprio a lui A Spender Spender Va a fa A Spender Ha avuto un problema Nell'inizio Con una fibra Ha portato una sua canzone Lui fa Canzoni Io spero Fa La mia amica La mia amica Special Alla mia amica Lesbica La mia amica Alla mia amica Etero Piace pure All'amico gay Della mia Scusate Il mio amica Della mia amica Della mia amica Della mia amica Lesbica Il mio amico Trans È un genio È un genio È un genio Però Di parioli Non volevo cantare Scusate Orribile Ok Lui fa canzoni così E Non mi cacciano a me Però Aveva quel qualcosa in più Quel qualcosa in più Lui lo ha Infatti Non mi piace Ma lo ascolto io Perché comunque Lui ha quel qualcosa in più Ti dà quello sprint Ti dà una Una carica Delle vibes positive E poi Ha superato Green Nel freestyle Bravissimo Mi è piaciuto Poi Ha fatto la canzone E Secondo me L'ha rovinata Ora Non mi ricordo Fragili O Vetro E ragazzi Il primo pezzo È stupendo È stupendo Il primo pezzo Poi ha dovuto fare lo spender Ma lì ci fu stare anche Ma il primo pezzo Ragazzi È stupendo Di vetro Il primo pezzo di vetro È veramente stupendo Passato poi Ha fatto attica Con Con Nozinarcus E lì ragazzi Devo dire Mi è piaciuto Io lì Lì Quella sfida L'avrei fatto passare Al posto Di In uno dei due I napoletani Più L'altro Che poi vi dico Eh Anzi Vi viene per l'ora L'avevo fatto passare Al posto Di Gela Croix Perché Sì Il fit con madame Non mi è piaciuto molto Mentre Spender Mi è piaciuto di più Io è Il parere Il mio personale Allora Parliamo di Gela Croix No Parliamo Della top 3 Partiamo Dallo Che è stato Arrivato Alla top 3 Proprio Loro due Se la lottavano Alla fin fine Dopo i duetti Con Il matador Il matador Supera casting Poi supera Quelli Di milano Perché è piaciuto Poi Supera Ince Se non mi sbaglio Nel Frista Ve ho detto Che Spender Aveva superato Green nel Frista Sì Green Scusate Il matador Supera Ince nel Frista Però il Frista Non mi è piaciuto Perché Sono amici Hanno detto Siamo amici Non mi sento Di Ammazzarlo Metaforicamente Sì Che Il Frista Si è andato Un po' a perdere Secondo me Passato Avanti Al Frista È andato Al I duetti No Scusate La canzone Con il videoclip Malissiosa Canzone Veramente Bella Il videoclip Veramente Bello Diciamo che Quella puntata Diciamo L'ha vinta lui Perché il videoclip Più bello Di tutti Secondo me E la canzone Mi piace È un reggaeton Malissiosa Ti entra in testa Te la ricordo Poi Dopo aver fatto Quello C'è stato Il duetto Con Guè Su Cooking Stain Cream E quel attacco La sua Sada di Carbonara Croccante Non la Ficco Se parla Con le Guardie Ah Entrò come Cocca La rosa Inu E Faccio un Tison Con Gigu E Ha Spaccato Tutto E poi Se non Dove Una cosa Che la Rende Più Figa Questa Intanto Secondo me Insieme a Quello Di Spender È Il Miglior Duetto Poi Dopo Duetti C'è stata La finale E Mi sembra Sì E la Canzone Ragazzi È stata Veramente Bella Perché A differenza Di Spender Lui Si Aperto Sì Però Poi È andato A fare Lo Spender Della Situazione Comunque L'ho contato Due Se Il Se Ha raccontato Secondo me Dylan E il Matador Dylan Ha Come ho capito Conosco Dylan Ha come ho capito È Uno che ha sofferto Tanto Nella vita Perché Il padre Come ho capito Me ne aveva la madre Si bracava Non Non voglio Descriverà nessuno Ma come ho capito Io E poi Mi sembra Ho visto Qualche spezzone Di cose Comunque Il padre Me ne aveva la madre Lui non ha voluto Verci rapporti Per questo L'ha cresciuto Sua madre E i suoi nonni Lui viveva In Svizzera Poi si è trasferita A Roma Ha detto lui Lui è cresciuto Con la madre Con i nonni Con gli si Ha detto Anche E diciamo Che Questa canzone Ha detto Prima Cos'è Dylan Cosa ha Dylan Dentro E lui ha detto Anche che il motivo Chi fa rap Un motivo Lo deve avere Lui ha detto Cos'ha Dylan Chi è Dylan Perché È diventato Questo Dylan Perché È triste E ha spiegato Tutti i motivi La madre Perché Il padre Ha ringraziato Il suo nuovo padre Che ha salvato Sua madre Ma problemi Anche con Lui Come l'ho sentito Mi passa a capire Ha avuto problemi Con l'alcol Ha problemi Con l'alcol Comunque È un ragazzo Che si sente Proprio Che ha passato Qualcosa E l'ha voluto raccontare E poi Ha voluto parlare Del matador Ha detto Che io Quando sono Nel matador Cambio Io quando sono Nel matador Mi diverto Lui dice Faccio canzoni divertenti Ma ho fame Lui però Quando il matador Si diverte La canzone Ragazzi È davvero Qualcosa Di Bella È bellissima La canzone È veramente Bellissima Bellissima Ora arriviamo Ai due finalisti Kid Lost E Gela Crew I due finalisti Diciamo Lui non è passato Da lì Detta Dei giudici Ha sbagliato Un po' Nell'esibizione Live Ma la canzone Era stupenda L'hanno detto Però Ha sbagliato Un po' Nell'esibizione Live Doveva Trener di più Il fiato Diciamo È andato corto Col fiato Nel tempo Della canzone Ha perso Un po' Il tempo E tutto Ora arriviamo A Gela Crew E Kid Lost La finalista È il vincitore Allora Gela Crew La seconda La Fina La Quella che è arrivata Seconda La fin fine Gela Crew È partita Andata Da Napoli Da Napoli Devo dire Il primo Cosa ci stava Io Di Gela Crew Non ne parlerò bene Per una sola cosa Parlava in napoletano Io in napoletano Non lo capisco E non lo tolero Quando Io se voglio ascoltare una canzone Voglio Capirci Anche con Giannis Velevole parlare Però ho detto Questo Cosa dico Canta francese Non se ne capisce nulla Gela Crew Lo stesso Cantava in napoletano In napoletano Non lo capisco Capisco È malapena Però è passata Poi è andata Contro capo È andata Nel Frista Contro capo Zanarchi E Ragazzi Lo dico L'ha asfaltato Non ho capito Cioè Non ho capito Lì ho capito Stralmente Alcune parole L'ha asfaltato Annichilito Capo Zanarchi Se l'ha preso anche Più tempo Del previsto Nella seconda barra Ha fatto Ha fatto Tipo Del ghetto Comunque Suona me Andata Se il ghetto Gira Su stesso A te Sta One Two Three Canterò Imbarazzantemente Io Era per spiegarvi E Devo dire Che Mi è anche mezza Piaciuta Una Ne Blen Ne Troppo Cosata Pasata La danza Passata Anche lei Poi c'è stato Il Frill Scusate Festa Il Bluetto Comuname E Te l'ho detto Io avrei fatto Spassare Spender Perché Lei Non mi è Caciuta Sì Avrei Eliminato Lei Al posto Di Kid Boston Non mi sono Piaciuto Tutte le due Però Avrei Eliminato Lei Non mi ha Dato Proprio Nulla Lei Parlando In napoletano Non la Capivo Nemmeno Che Avrei Levato Lei A Perscindere È Passata Andata In finale E Canzone Registrata Qualche Parte La Cerco Scusate Che Mi sono Messo Qui C'era Nitro Nella Ultima Puntata Si Sono Stati Tanti Cose Mi sono Scordato Di Dirle Vedi Rapper Ce l'ha Scritto Anche Si Ci sono Stati Nella Prima Puntata Avevo Detto N Le Blade Rock Hunt Squarta Gue Ketama Yanks Snapp Laz E Nights Che Non Me ne Scordato Nessuno Poi È Stato Fred De Palma Come Quello Del Freestyle Per I Duetti Gue Madame Aracai Cinnazi Narcos Fred De Palma È Stato A Giudicare Freestyle E Poi Nell'ultima Montata C'è Stato Un Nitro Che Si Visto Per Un Attimo E Si Vediamo Se Vi Trovo I Nomi Le Canzoni Che Non Mi Ricordo Mene Mente No Mi Sa Di No Va Bene Tipo Dunque Una canzone Intima Quella del Matador Si chiama Il Matador È una canzone Intima Parlato Dei suoi genitori Di suo fratello Che aveva problemi Con le droghe Sua sorella E Però Per me Ha perso Non mi Ha toccato Ha perso Nome Il parlare Napoletano Per Ora parliamo Dell'ultimo Concorrente Mi sto Delungando Anche Troppo Ma Questo Video Era Da Fare Andava Fatto Parliamo Dell'ultimo Concorrente Scusate Dell'ultimo Concorrente Concorrente Del Vincitore Di Questi 100k Che Teoria Se Non ho capito Nulla Teoria Se ne sono Divisi Poi ho detto No Non ce li Dividiamo Diamole ad Altre Persone Un casino Casino Allora Kid Lost Il vincitore Di questo Prima Edizione Di Nuova Scena Kid Lost Allora E avrei fatto Vincere No Avrei fatto Vincere Il Matador Però Secondo me Levando il Matador È il vincitore Migliore Un po' Per la finale Perché comunque La canzone Si ha fatta Lo è napoletano Ha fatta Però ha cantato Diciamo Ha avuto tre fasi Fase Fase 1 Fase Si che parlava Del Sua città Guagliù Si chiama la canzone Guagliù Creatura Non mi ricordo Poi fase 2 Parlata in napoletano E Non ho capito Una mazza Ma Quello È una mia lacuna E fase 3 È stata La più bella Secondo me Quella Parlare In fila Da soldati È stata La fase più bella E la canzone Mi è piaciuta Aveva fatto Vincere il Matador Ma pure La canzone Di Kid Lost Mi è piaciuta Alla fine Diciamo che Ha meritato Kid Lost Ha anche meritato Kid Lost La vittoria E devo dire Che Sì Mi è piaciuto Kid Lost Alla fine Ha vinto Programme in generale Sì Mi è piaciuto Mi ha Fatto Un po' Scendere Aspettare L'ultima puntata Io l'avrei vista Io l'avevo diviso In due tranche Prima tranche Seconda tranche Seconda Diciamo Lo stacco Fino a Aspettare 3-4 giorni Per vederla La puntata Mi ha fatto Un po' Scendere Quell'app Che avevo Perché dopo La puntata Dei Dei Due Ti ero Super Iper In Mega Hype Ragazzi Ero in Super Iper Mega Hype Dico Dai Porca Miseria Dai Dimmi Fammi Vedere Fammi Vedere Subito La prossima Puntata Dimmi Chi vince Ero Super Iper Mega Hype Comunque Si vincitore Giusto Detto Questo Mi è piaciuto Il format L'avete Visito In due Invece Che in tre Tutto il resto Cosa giudico Mi è piaciuto Il format Allora Ora chiedo a voi Passo a farlo a voi Ditemi Che è stato Il vostro preferito Quello che vi è piaciuto Di meno Che avreste Fatto vincere E qual è la vostra La canzone Preferita Di questo Di Una scena Tra Maliziosa Quella che ha fatto Il matador Compreso il duetto Cioè Maliziosa Il duetto Con Guè Che è L'ultima Spender Che vi è piaciuto Più Che vi è piaciuto Il meno La vostra Canzone Preferita Di questo Di questa Nuova scena E anche il vostro Giudice Preferito Di questa Nuova scena Non è che ha fatto Le scelte Migliori Con Kid Lost Secondo me C'era un altro Che meritava Che era Proprio insieme a lui Che era A trovarlo È uscito Vero Otsunami 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 Secondo me Meritava anche lui Perché L'avevo Vesto Molto carico Poi avevo Già parlato Di ragazzino E gli altri Nulla di che Ah E Tra l'altro Prima di finire Christian Zanarchi E Revo Scusate Christian Revo Capo Zanarchi E Niente più altro Mi sa Nel Nel Ora Nel Poi il freestyle Hanno fatto una figuraccia Sia Kid Lost Mi sono scordato Di dire Cosa ha fatto Il percorso di Kid Lost Kid Lost Ha rotto Christian Revo Nel freestyle Proprio L'ha fatto così Rest in peace No davvero L'ha distrutto Ha distrutto In una maniera Impressionante Detto questo Ditemi Quello che vi ho chiesto Nei commenti Se volete Noi ci vediamo A un prossimo video Ho reagito Agli album Di Saki E di Ross Villen Ci vediamo Un prossimo video Ovviamente Quando ci saranno Altri album Uscirà la carriera Allenatore Devo solo registrare Mi sono preso Un attimo Di pausa Perché ero deciso Se cancellarla Però Vi Dico Seguite Vedete Il terzo episodio Perché Non vi ho spiegato Nulla Nei primi due episodi La carriera Allenatore E vi consiglio Di vedere Il terzo episodio Per capire Come andò Stura questa carriera Ho sbagliato Il secondo A dire la verità Ho sbagliato Scusate Ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao Ciao